Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo mio video Quest'oggi finalmente siamo tornati con un video gameplay Su un noto gioco che forse è poco conosciuto Che come si può intuire dalla mia maglietta Fortnite anche se è scritto al contrario Ma vabbè Dunque questa maglietta qui ha una storia dietro Per chi si ricorda già quest'estate ce l'avevo E probabilmente si ricorda anche come l'ho presa In ogni caso ragazzoli belli cari Quest'oggi come detto dal titolo siamo tornati con una nuova challenge su Fortnite Non l'ho mai fatta e si effettivamente YouTube ne è tempestato di queste challenge Dunque quest'oggi andremo a provare Sperando ovviamente di non fare cose a caso La deltaplano challenge E ormai penso conosciuta e pluriconosciuta Però non avendola mai fatta sono molto curioso di andare a vedere Quello che potrà effettivamente succedere Mi raccomando ragazzi se questo genere di video vi piacciono Come sempre vi ricordo di lasciare un bel like Se siete nuovi mi raccomando iscrivetevi al canale Anche perché se no come dico sempre Il nostro mitico love ranger si arrabbierà con voi E io non lo farei arrabbiare forse in voi Ma al solito seguitemi su tutti i social network Il link ovviamente è qui sotto nella descrizione E noi possiamo partire subito con questo video Ma ecco qui il nostro fantasticissimo Fortnite Fantasticissimo si fa per dire Perché oggi andremo a fare 8 milioni di vittorie reali Premetto ancora prima di iniziare che non sono un pro player Quindi se vedete cose fatte a caso Si sono date dal fatto che sia scarso Ma anche perché mi sono svegliato 10 minuti fa Ed effettivamente sono un pochetto più disabile del solito Ma in ogni caso allora andiamo nel nostro negozi oggetti Perché vi raccomando la prima cosa da fare Assolutamente prima di vincere ogni partita Inserire il codice creatore epicale all'interno dello shop Cliccare ovviamente il tasto accetta E dunque possiamo iniziare molto molto serenamente Shop di oggi che sembra essere abbastanza carino Cioè di nuovo lascia caramella Attenzione Praticamente non c'è più nulla ormai di raro Perché pian piano stanno rimettendo tutto quanto Però vabbè ci sta insomma ci sta ci sta Allora andiamo nel nostro armadietto Perché come vi ho anche detto prima Oggi andremo a fare al deltaplano challenge Perché per chi non la conoscesse Ve lo spiego io molto in breve Anche se dubito che non la conosciate Tramite selezione casuale ci potrà apparire Uno di questi deltaplani Che come vedete io non ne ho tantissimi Però in ogni caso ci sono sia quelli non comuni Che quelli comuni Quelli rari Quelli epici E un solo leggendario Quindi la probabilità che ci esca un deltaplano leggendario Non è proprio del tutto così alta Però insomma potrebbe giocare a favore nostro In ogni caso allora Quindi mettiamo la nostra fantastica selezione Ovviamente randomica Per il momento lasciamo la miltegul Il backpack che questo qui mi sta piacendo un botto Ultimamente Quindi lasciamo questo E poi ovviamente come non possiamo mettere il nostro fantastico minty Ovviamente faremo all'incirca tre partite Ovviamente dipende da quanto durano E soprattutto cosa riusciremo a combinare Modalità naturalmente singolo E dunque clicchiamo sul tasto gioca Ok Infatti adesso ci ho messo anche un bel po' di tempo Prima di startare una partita Però ovviamente Speriamo di combinare qualcosa di abbastanza buono Vi ricordo che è la mia prima partita del giorno E quindi speriamo di non nabbare più del solito Tending Facciamo un po' per iniziare Molto tranquillo Più o meno Andiamo alla fattoria vai Fattoria molto easy E tra poco scopriremo che deltaplano ci sarà capitato Vai 3 2 1 Let's go In teoria dovrebbe essere comune Dovrebbe essere il deltaplano quello verde Sì Perfetto Deltaplano verde Quindi solo armi verdi Possiamo utilizzare Speriamo di poterne trovare Anche se dubito molto fortemente La casa Questa è già impestata come al solito Ma è ovvio Quello è normale Ok Subito arma verde Mi piace Vai Abbiamo un vampa Che ovviamente lì non è proprio al massimo Da sotto c'è anche un pompa Mmm Non possiamo prenderlo però Vabbè Parliamo più materiali possibili Che questi Penso ci serviranno In una maniera assurda Vai Diciamo che un pompa Non sarebbe proprio malvagio trovarlo Anche se Purtroppo non posso prenderlo Ok Pistoletta Wow Fantastica Come poterla Rifiutare Allora 29 29 gliel'abbiamo fatto Molto cattivo Sono tentatissimo Ok Woohoo GG Prima kill Portata a casa Questa non aveva mai col pompa Bello Ok vai C'è altra gente Proprio tantissima altra gente Facciamo così va Vampa si carino Tutto quello che volete Ma raga Che ansia Vai saliamo sopra il tetto Non siamo neanche in safe Fantastico Ma io dico no Ma un pompa Verde Ma faceva proprio schifo eh Proviamo a vedere se magari qua sotto c'è un pump Ma guarda Sono molto poco fiducioso di tutto ciò Ok ce ne sta uno qua sopra eh Visto L'avessi preso mezza volta Eccolo Eeeh Fanculo E niente Rip Questo c'ha schiumati Che pizza però E' impossibile giocare senza pump raga E' veramente impossibile Ma noi ovviamente non demordiamo Perché l'obiettivo di oggi Vi ricordo che è provare a vincere almeno una partita O perlomeno Questo è quello che cercheremo di fare Allora vai Altro giro Altra corsa Dov'è che ci lanciamo questa volta Andiamo a Borgo Bislacco Vai Borgo Bislacco Bello tranquillo Vai 3 2 1 Let's go Ah ma aspetta Non ho ringraziato l'autista Eh vabbè rip Perpente dei cieli Questo del tuo plano qui Se non erro Perché non va la corsa automatica No Si è anche buggato il gioco Che pizza E niente Mi si è buggato il gioco Non mi va più la corsa automatica Vabbè Dovrebbe essere anche questo Mi pare verde Ma perché si è buggato Non mi va più la D Non mi va più la lettera D Aiuto No dai ma io non ci voglio credere A sinistra da solo Non sto toccando niente Ma cosa sta facendo No io non lo posso No non lo posso sopportare sto gioco Ok sei sbuggato Che bello Era ora Aspetta Il delta plano è verde Quindi queste armi qui Non le posso prendere Vediamo se magari qua dentro C'è un pump Ok Però c'è una R Va bene lo stesso Mi sembra ci fosse qualcuno Eh ma non ne sono ovviamente sicuro Oh che bello questo Non posso prenderlo Ah che tristezza vai Pump ti prego Si Bellissimo questo Adesso però dobbiamo andare Ah ma laggiù ci sono già fightati Ma che carini Vabbè io mi farei i cavoli miei Farmerei un pochetto i materiali qua Mamma mia ragazzi Stanno proprio picchiando tanto eh Ma c'è un tizio qua Let's go Ok questo Poveretto gli ho tipo Rotto la faccia da dietro Sono una persona orribile Lo so Ok prendiamo tutti i materiali Tutte le cose del caso Prendiamoci anche un bellissimo shield Ok effettivamente non so dove sia il tizio Che prima Stava fightando con lui Però boh noi nel dubbio avanziamo E speriamo ovviamente che questo non ci spani la faccia Tra l'altro questo posto qui è lo stesso In cui tra qualche giorno ci sarà tipo Quell'evento lì In cui fanno vedere Una puntata di fo Di Woohoo Bellissima Bella pure cecchilata Dunque stavo dicendo che ci sarà tipo un coso di star wars Tutto boh a caso Bello abbiamo fatto un'altra kill Questo qui poveraccio non aveva niente Infatti boh Abbiamo killato Due kill per noi Let's go Uh bello questo Portiamo gli shieldini Però lasciamo tutto il resto Vai mi piace Proviamo ad andare alla fattoria Va Andiamo a vedere che cosa c'è Di molto interessante laggiù Prendiamo ovviamente non ci sia nei pro player Perché sennò sarebbe un piccolo problema Ok effettivamente di gente ce n'è Però adesso andiamo sopra il tetto della casa Vediamo che cos'è che riusciamo a combinare Mi sa che ce ne sta pure uno qua sopra Boh nel dubbio Io mi preparo con rocket Ok stanno qui Vediamo se riusciamo a dar fastidio in qualche modo Eccoli qua vai E che bellini Bellissima vai Bella Un'altra kill stillata Mi piace Ok questo qui è abbastanza rognoso eh Poi c'è anche altra gente Fantastico Ok un'altra hit Ma ce n'è un'altra laggiù Mannaggia te La situazione è più arda del previsto C'è troppa jet per i miei gusti Quindi nel dubbio io mi boxo Stile bambino creativa Pazzo criminale furioso schifoso Ma come ti permetti Madonna mia mi ha fatto spaventare Aspita di essere inutile Ok nuova partita Sì lo so effettivamente nella partita di prima Non è finita molto bene Però c'è anche da dire che non si doveva utilizzare armi verdi Bensì il deltaplano era raro Quindi di colorazione blu Però abbiate pazienza È la mia prima volta Quindi se sbaglio Oltre che quello Ma anche perché sono tipo presto la mattina E sono un po' Un po' tanto ritardato Abbiate pietà di un povero epicale selvatico Che non sa distinguere i deltaplani Speriamo che in questa partita Riusciremo a combinare qualcosa di emozionante Lo spero ovviamente Questa volta le andiamo Vai a corso commercio Proprio così Ma sapete perché non abbiamo vinto le scorse partite Perché ovviamente non abbiamo ringraziato l'autista Io pure che mi sono scordato Vabbè comunque vai 3, 2, 1 Let's go Adesso il deltaplano Ragnambrello Ok perfetto Questo è il deltaplano comune Quindi solo armi esclusivamente bianche Vai Potremmo fare effettivamente grandi cose Anche se effettivamente non lo so Adesso andiamo qui Scendiamo Prendiamo un pump E spacchiamo tutti E là sotto cosa c'è? C'è già un pump Vai Prendiamo subito questo qui Molto easy Molto fast Così abbiamo già un bel pump E siamo belli che è a posto Vai Ok la canna da pesca Direi che per il momento la lasciamo da parte Qui pompa incredibilmente verdi Una mitraglietta bianca E le armi bianche sono sempre quelle un po' più a favore Di queste challenge Perché se le trovano a bizzef Qui troviamo anche le bende Altre armi che naturalmente non ci servono O che perlomeno non possiamo utilizzare Sono onesto effettivamente Il pompa del nonno bianco Non è che sia proprio tutta questa grande fantasticità Però in ogni caso Boh Andiamo a vedere se di qua c'è gente E probabilmente si ce ne sarà anche abbastanza Vabbè dai Abbiamo trovato un medikit Qui prendiamo anche i copi Vabbè c'è la pistoletta bianca Ma francamente non la voglio prendere Facciamo un po' di parkour Va che bravo che sono Va che storia Sto incominciando a dubitare il fatto Che ci sia della gente qua in questo posto Ma vabbè Questo gioco non va dato per scontato nulla Perché la prima cosa che dai per scontato È proprio quella che ti frega Quindi Ci facciamo i nostri giretti del caso E vediamo se riusciamo a trovare qualcuno Che possibilmente non sia un pro player Già con lo spasso E con tutte le armi più belle possibili Immaginabili Ok abbiamo trovato anche gli shieldini Mannaggia Potevamo trovarli prima di per la pozzata 50 eh Direi a questo punto di andare verso l'ago Nella speranza di trovare qualcuno Con cui poter in qualche modo fightare Il fatto di non avere una R Non è proprio amazing Però insomma abbiamo comunque un pump Abbiamo tantissime cure E un bel po' di materiale Quindi qualcosa potremmo in qualche modo combinarla Ok intanto si perfetto C'è gente che si fighta Che poi dico perfetto Quando meno gente c'è meglio è per me Spero solamente che non mi arrivino cecchinate e robesimi Vai proviamo a colpirlo con la mitraglietta No Però vedete qui aver avuto una R Porca paletta Sarebbe stato molto più amazing Vai Proviamoci di cattiveria Proprio così Come se non ci fossero domani Ma sta scappando via Bro Girati Viene a fightare con me Ok L'agrand gliel'abbiamo preso C'è effettivamente un po' rotto Ho le scale al contrario Non ho parole No ok One shot One shot No raga È one shot Fatemi fare un attimo sto shield Ma che caspito Ho le scale al contrario Proviamo a scendere No Non ci voglio credere Ma sono caduto da un'altezza minuscola Ma dai Ma non è possibile Vabbè raga Veramente Aver dato sta kill A sto tizio Che praticamente L'avevamo lasciato one shot È una roba imbarazzante Ma va bene Direi che Per questo video Abbiamo fatto anche abbastanza Dunque ragazzoni belle cari Spero che in qualche modo Questo video vi sia piaciuto Spero che vi siete divertiti Tanto quanto come me Anche se effettivamente Ho perso in maniera Che Vabbè Si poteva anche evitare Però purtroppo il gioco È fatto un po' così Una volta che magari Cadi da tipo una montagna E ti fai due di danno Altre volte che cadi In un'altezza Che alta praticamente Un niente E tipo ti sfracelli All'inverosimile In ogni caso Spero che questo video Vi sia piaciuto Come sempre Vi ricordo di lasciare un bel like Se siete nuovi Mi raccomando Iscrivetevi al canale E seguitemi su tutti I social network In come mente Qui sotto Nella descrizione Noi ragazzi Ci becchiamo prossimamente Con un nuovo video Io vi saluto Ciao a tutti 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 Ciao a tutti